Musica Io penso che sia fondamentale esserci e credo che i problemi che hanno posto oggi i compagni dell'Irisbus siano i problemi fondamentali di cui discutere senza che è difficile costruire una reale opposizione all'austerity. Il problema della riduzione d'orario e di salario è una battaglia che controllo troppo spesso la sinistra ha abbandonato e ha messo da parte invece è centrale così come è centrale il problema dell'occupazione che intere generazioni nei 20 e 40 anni siano generazioni più disoccupate e che non cerchino più neanche lavoro è una tragedia sociale di cui la sinistra si è dimenticata e il risultato di virillo forse si dovrebbe fare in verità. Musica Musica Musica